E passiamo a Sporting Lirbona di Nemo Tirana, 1-0, immagini sono bruttissime, prima c'è un palo da parte dello Sporting Lisbona, poi vediamo l'azione del gol segnata da Venanzio, l'andata era stata 0-0 in Albania, quindi passa lo Sporting Lirbona grazie a questo gol segnato da Venanzio, 1-0, basta e avanza per lo Sporting Lisbona.